campagna crowdfunding insieme per npc per donare è molto semplice vai sul sito www.eppela.it e registrati cliccando sul login e scegliendo l'opzione che preferisci puoi registrarti tramite il tuo account facebook twitter google o semplicemente con la tua mail una volta effettuato il login cerca il nostro progetto insieme per npc rieti nella nostra pagina ufficiale potrai avere tutte le informazioni sulla raccolta fondi ed effettuare una donazione cliccando sul tasto contribuisci a questo punto scegli la tua recompensa e clicca prosegui ora non ti resta che inserire i dettagli della tua carta prepagata o di credito circuito post pay visa mastercard ed american express al termine clicca su contribuisci riceverai la conferma del pagamento e la relativa ricevuta ora non ti resta che condividere con tutti la nostra iniziativa crediamoci credeteci uniti si vince forza npc